Salve, sono Fragi e Apocaloso. Io sono Videocassetta. Come avrete notato in questi giorni non abbiamo postato nuovi episodi di Preti in Mano e questo è perché in realtà è stato cancellato, si può dire, sì cancellato e non abbiamo più l'attrezzatura data per fare il programma, perciò ci sono solo due puntate. E più di due puntate non si possono fare. Noi ne avremmo volute fare 15, avevamo praticamente scritto tutto per 15 puntate, ci sarebbe stata anche una puntata a Londra. Era bella quella, eh? In cui succedevano... Lo sappiamo quando sarebbe successo, comunque avevamo intenzione di fare cose di questo genere molto divertenti, molto belle, più per noi che per voi probabilmente, però adesso non possiamo più farle, a meno che qualcuno di voi non ci dica guardate che ho una telecamera o un microfono, o almeno la telecamera e il microfono, magari ce lo compriamo noi. Quindi noi teniamo le dita incrociate, speriamo di poter fare altri episodi, però per adesso Preti in Mano è morto. Ciao! Ciao, 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 ciao. Fatto.